In queste elezioni regionali si è parlato tanto di sanità, si è parlato un po' meno del rapporto che c'è tra sanità, qualità della vita, qualità del lavoro, qualità del territorio. Questi sono tutti argomenti che chi si occupa di urbanistica, di città, di campagna e quindi della nostra vita quotidiana conosce molto bene. Prevenire è meglio che curare, è un territorio equilibrato, una serie di servizi adeguatamente modulati sul cittadino, una qualità dei trasporti, un buon rapporto città-campagna, sono tutti temi che Michela Barzi conosce molto bene e per questo vale la pena sicuramente sostenere la sua candidatura nel listo di etico a sinistra. Tu hai niente da dire, non sarai mica a stensione. Grazie a tutti.